Ehi, nazione rosso-nera, che notizie entusiasmanti abbiamo per te oggi? Ma prima di tuffarci a capofitto in questo entusiasmante annuncio, vi chiedo il vostro sostegno per lasciare quel like e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità della nostra amata Milano. Insieme siamo più forti, il Milan resta fermo nella ricerca della perfezione in campo, puntando sempre al massimo risultato. E per raggiungere questo obiettivo, non possiamo ignorare l'importanza delle giuste assunzioni. E oggi siamo qui per parlare di uno di quegli acquisti che promette di scuotere San Siro. È ufficiale, amici miei! Nell'ultima giornata di mercato, il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Luca Jovic dalla Fiorentina. L'attaccante Serbia è ora una parte vitale del nostro progetto, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. La traiettoria di Jovic è impressionante, cresce nelle fila della Stella Rossa e muove i primi passi in prima squadra nel 2014, segnando 13 gol in 48 presenze. Poi ha fatto il salto al Benfica, dove ha trascorso una stagione prima di brillare all'Entracht Francoforte. Jovic ha fatto la storia anche con la nazionale tedesca, collezionando 75 presenze e 36 gol. Ma è proprio al Real Madrid che fa la sua prima esperienza nella Liga, con 32 presenze e 2 gol. Nel gennaio 2021, è tornato in prestito all'Entracht Francoforte e ha segnato continuamente gol, aggiungendone 4 in 14 partite. Tuttavia, è tornato al Real Madrid nella stagione 2-0-2-1-22 prima di trasferirsi, definitivamente alla Fiorentina la scorsa estate, dove ha giocato 50 partite e segnato 13 gol. Con la nazionale serba Jovic ha brillato con 30 presenze e 10 gol segnati, dimostrando il suo valore a livello internazionale. Il comunicato ufficiale ha anche rivelato che Jovic indosserà la maglia numero 15, che sicuramente ci farà attendere con ansia il suo debutto a San Siro. E ora vogliamo sentire la vostra opinione, fan appassionati. Come vedi l'arrivo di Luca Jovic al Milan? Potrebbe essere un tassello mancante per rafforzare ulteriormente la nostra offensiva? Lascia le tue opinioni nei commenti. E non dimenticare di dimostrare il tuo sostegno al Milan lasciando like e iscrivendoti al canale per non perdere nessun aggiornamento. La stagione promette bene e resteremo uniti in ogni fase del percorso. Forza Milano! Sempre! Cerchio rosso, cerchio blu, cerchio medio. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Milan.